Stefania Bruno, la più famosa send artist italiana, l'artista della sabbia, ha presentato il suo spettacolo dedicato a San Felice nella serata del 26 agosto a Nicosia. L'evento organizzato da Giorgio Lofareventi e dai frati Cappuccini di Nicosia è stato inserito nel cartellone degli eventi per i festeggiamenti in onore di San Felice. Stefania Bruno, muovendo le mani su un tavolo retroilluminato, crea immagini, disegnamondi e personaggi e racconta storie. In una piazza Garibaldi gremita ha raccontato la storia di Nicosia e la vita di San Felice. Con la maestria che la contraddistingue, la brava send artist ha riprodotto all'inizio dei quadri di Nicosia, panorami, palazzi baronali, piazza Garibaldi, la cattedrale. La sua performance, accompagnata dalla musica e dalla voce narrante del fratello Vincenzo Bruno, ha riscosso sempre molto successo ed ogni quadro è stato accompagnato dagli scroscianti applausi del pubblico. La seconda parte della performance di Stefania Bruno ha riguardato la vita di San Felice, con quadri sulla nascita, il lavoro da calzolaio, l'entrata in convento, la preghiera, la morte ed i miracoli. Una storia condensata e riprodotta sulla sabbia con molta maestria molto suggestiva ed emozionante. Uno spettacolo unico che ha riscontrato un notevole successo per quanti hanno potuto ammirare, ancora una volta Nicosia, il connubio poetico tra dita e sabbia e la materializzazione di oggetti e personaggi, lasciando a bocca aperta i tanti che hanno potuto ammirare la magia creata da questa grande artista.